Il Giulianova fa tutto bene o quasi, ma la strada verso il ritorno al successo resta sbarrata. La frenata dei giallorossi nell'ultimo mese sta nei numeri, 4 punti in 5 gare, ma la prestazione dispensata contro il Lanciano è di assoluto valore. Nel catino del Fadini, acceso ad una sfida assentita fuori e dentro il campo, alla squadra di Cerasi manca solo il gol. Il pari infatti sta decisamente stretto ai giallorossi, mentre è grasso che cola per il Lanciano, che offre una prova di sostanza ed è capace di sporcare quelle che sono le qualità di palleggio degli avversari. L'approccio del Giulianova è di quelli giusti. Dopo appena due minuti Giglio rifinisce per Traini. La conclusione trova pronto Elezai, protagonista assoluto della contesa. Altri tre giri di lancetta e l'estremo Frentano esce con i piedi ad anticipare Francesco Di Paolo. Il Lanciano, dopo aver sbandato in avvio, stringe molto le linee, ma non riesce a gestire sempre l'accelerazione del Giulianova. È decisivo l'intervento del capitano Scipioni al 35esimo per anticipare Francesco Di Paolo capace di costruirsi una limpida palla-golla. Persiani, quasi inarrestabile sull'out Mancino, entra in area e viene in contatto con De Marchi. L'arbitro non ha dubbi e concede il penalty. Buonavoglia però si fa ipnotizzare da Elezai, che respinge, poi Di Paolo calcia fuori. La ripresa è ancora più godibile, dai ritmi alle occasioni prodotte e anche sul piano agonistico con una sfida che si accende ulteriormente. Dopo appena 25 secondi, gli ospiti fatturano la prima occasione del match. La rasoiata di Iseni si perde di un nulla sul fondo. Il Giulianova però la partita la vuole vincere e carica a testa bassa. Importa però il Lanciano a un estremo difensore in giornata di grazia. Ci prova Buonavoglia al terzo e Elezai vola a smanacciare il sinistro e l'effetto. Altri due minuti e Persiani si vede disinnescare la conclusione. La pressione giallorossa è costante, Buonavoglia sullo scarico di Persiani centra in pieno la traversa. Sembra non essere giornata. Al quarto d'ora è ancora l'estremo ospite decisivo sul tentativo di Francesco Di Paolo. La partita resta vibrante con il Giulianova che prova a sbloccare la situazione e gli ospiti invece attendono la palla buona per colpire. Al ventottesimo il sinistro dal limite di Rey, sibila di un nulla vicino al Paolo. L'assalto finale non porta in dote il successo al Giulianova, mentre il Lanciano si conferma squadra compatta e molto scorbutica. E il finale regale anche qualche tensione di troppo, con Elezai che sulta sotto la curva ovest, scatenando la reazione dei giallorossi per poi essere espulso prima del rientro negli spogliatori.